Ho iniziato la seconda stagione di una serie tv troppo figa che si chiama Yellow Jackets su Paramount Plus E se vieni la guardiamo insieme Vieni qui ho bisogno di un amico Mi serve qualcuno con cui parlare Tanto ci sono un sacco di altri film e serie tv se non ti piace quella Possiamo vedere tutto quello che vuoi Però vieni in fretta così almeno ci divertiamo dai Ti prego Che sei tu Perché mi stai riprendendo? No aspetta non te ne andare però se vuoi ti offro un caffè o del tono in scatola O anche una vellutata di zucca surgelata basta che non te ne vai per favore Ti prego non te ne andare Rimani rimani non lasciarti solo Ti prego non te ne change. Grazie a tutti.